In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribe e i farisei Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono Ma non agite secondo le loro opere Perché essi dicono e non fanno Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare E li pongono sulle spalle della gente Ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito Tutte le loro opere le fanno per essere ammirate dalla gente Allargano i loro filatteri e allungano le frange Si compiacciano dei posti d'onore nei banchetti Dei primi seggi nelle sinagoge Dei saluti nelle piazze Come anche di essere chiamati rabbì dalla gente Ma voi non fatevi chiamare rabbì Perché uno solo è il vostro maestro E voi siete tutti fratelli E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra Perché uno solo è il padre vostro Quello celeste E non fatevi chiamare guide Perché uno solo è la vostra guida Il Cristo Chi tra voi è più grande Sarà vostro servo Chi invece si esalterà Sarà umiliato E chi si umilierà Sarà esaltato Quando leggiamo un Vangelo Solitamente facciamo come in un film Prendiamo le parti del buono O comunque del personaggio che il regista consacra ad eroe Così nel Vangelo Siamo sempre dalla parte di Gesù Oggi ad esempio Gesù attacca gli iscrivi e i farisei E noi cosa facciamo? Li attacchiamo anche noi Cioè i farisei sono gli altri Anch'io normalmente faccio così Però crescendo in età E accorgendomi miseramente dei miei peccati Sento di non essere poi migliore dei miei padri Come diceva anche il profeta Elia Anche io come prete Sono seduto sulla cattedra di Mosè e di Pietro E oggi quelle parole Gesù le dice a me Ma proviamo a farlo tutti noi Questo esercizio di inversione di prospettiva Riguardo l'interpretazione del Vangelo Gesù dice Dicono e non fanno E noi facciamo quello che diciamo? Siamo quei testimoni limpidi Di valori che insegniamo poi ai nostri figli Oppure un insegnante Un educatore Un politico Vive realmente quelle dimensioni di virtù Che proclama ogni giorno? E quando Gesù dice Che leghiamo fardelli pesanti Non siamo noi i primi a farlo? Pensate a quando un genitore Dice al figlio di andare a messa E lui per primo non si va Ma di fardelli Ne buttiamo tanti sulle spalle degli altri Consci o inconsci Pensate a quando un marito Fa il muso alla moglie O contrario Quale fardello gli butta addosso? E in quel momento non lo vuol muovere Neppure con un dito Quindi oggi proviamo a sentirci Noi quei farisei ipocriti Faremo un bel bagno di umiltà Grazie a tutti